Dovrebbe arrivare domani da Catania la fumata bianca per la tanto attesa e fin troppe volte rinviata nomina dell'amministratore delegato di Soaco, la società che gestisce l'aeroporto di Comiso con InterSax, socio di maggioranza. E proprio negli uffici dell'aeroporto di Catania si riunirà domani il Consiglio di Amministrazione per il tanto atteso scioglimento del nodo, nomina da parte del presidente di InterSax, Peppino Giannone che a meno di novità dell'ultima ora dovrebbe indicare in Giorgio Cappello il nuovo addiso Aco. Cappello è il nome che Giannone stesso avrebbe caldeggiato forte del sostegno di Confindustria che in sacca ha già piazzato come amministratore delegato Nico Torrisi. Cappello ha preferito in questi giorni restare nell'ombra attendendo lo sviluppo degli eventi. Pare abbia perso invece quotazioni l'altro papabile ranomino, ovvero Rosario Di Bernardo, sostenuto da Federalberghi Sicilia. Il tiro e molla sul nome del nuovo amministratore delegato va avanti ormai da un mese e non ha fatto altro che rallentare l'elaborazione del nuovo piano industriale del Piolatore che nel frattempo ha perso voli e tratte come confermato dai passi indietro di Aritaria per la tratta sullinate la riduzione delle frequenze di Ryanair su Roma.